le fiamme sono divampate quando era ancora chiaro poi per ore hanno illuminato la serata e la notte di via bovazzecchina a vadia polesine fiamme altissime frutto di un rogo che ha devastato un ex maneggio proprio sotto le banche dell'adige tra il centro e villa d'adige ignote le cause sul posto carabinieri polizia locale e soprattutto i vigili del fuoco a corsi in forze con vari mezzi per ingaggiare una lotta contro le fiamme assolutamente non facile la prima preoccupazione dei vigili del fuoco è stata quella di circoscrivere le fiamme che purtroppo però si erano estese ad alcuni altri fabbricati che compongono il complesso davvero di grandi dimensioni non sarà un intervento semplice né breve i vigili del fuoco stanno mettendo in campo tutta la propria professionalità che ha consentito loro di bloccare e contenere il rogo lo spegnimento non sarà cosa da poco comunque non facilita le cose neppure la natura dei luoghi strade strette e fangose che impongono la massima cautela negli spostamenti anche per i mezzi dei vigili del fuoco tre le squadre che sono impegnate nella lotta contro le fiamme per fortuna non si registrano persone ferite per quanto concerne le cause al momento non vi è nessuna certezza e tutte le ipotesi sono possibili a quanto si apprende la struttura era da tempo disabitata e non utilizzata